Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili Ascoltate, voglio esortarvi a ravvedervi e a credere nell'Evangelo di Dio Perché? Perché questa è l'esortazione che Gesù Cristo, il figlio di Dio Rivolgeva alle moltitudini, alle folle Infatti è scritto che dopo che Giovanni fu messo in prigione Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino Ravvedetevi e credete all'Evangelo Perché dovete ravvedervi? Cosa significa ravvedersi? Ravvedersi significa cambiare mente Cambiare modo di pensare Quindi significa che dovete lasciare i vostri pensieri iniqui, vani, malvaggi Sì, quei pensieri ingiusti, malvaggi, disonesti, brutti Che voi, diciamo, avete nella vostra mente Li dovete lasciare E dovete credere nell'Evangelo Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo Che è morto per i nostri peccati secondo le scritture Che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture E che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio Questo è l'Evangelo nel quale dovete credere Per essere salvati Salvati da che cosa? Dai vostri peccati Perché chi commette il peccato è schiavo del peccato Voi avete peccato Siete schiavi del peccato E quindi avete bisogno di essere liberati Questa liberazione dal peccato Si può ottenere solamente credendo nell'Evangelo Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio Da fede a fede Secondo che è scritto Ma il giusto vivrà per fede Quindi è solamente credendo nell'Evangelo Che si ottiene la salvezza Quindi la salvezza è per grazia Non è per opere Affinché nessuno si glori Ecco perché appunto vi esorto a credere nell'Evangelo Ora è fondamentale che voi comprendiate questo Non c'è un altro messaggio Sulla faccia della terra Che voi potete ascoltare Che è nel quale credendo Voi potete ottenere la salvezza Non ce n'è un altro Al di fuori dell'Evangelo non c'è Perché l'Evangelo È potenza di Dio Per la salvezza D'ogni credente del giudeo Prima e poi del greco Cioè l'iddio vivente vero Il creatore di tutte le cose Ha stabilito di salvare Coloro che credono nell'Evangelo Ossia di salvare l'uomo Mediante la fede nell'Evangelo Ecco perché è indispensabile che voi crediate nell'Evangelo Per essere salvati A Dio è piaciuto di salvare i credenti Mediante la pazzia della predicazione Non mediante un altro messaggio Assolutamente Quindi dovete considerare che Se voi rifiuterete di credere nell'Evangelo Rimarrete sotto il peccato Rimarrete schiavi del peccato E rimanendo schiavi del peccato Rimarrete nemici di Dio Perché i peccatori sono nemici di Dio Nemici di Dio nella loro mente Nelle loro opere malvagie E sopra i nemici di Dio C'è l'ira di Dio L'ira di Dio E rimanendo nemici di Dio Poi morirete nei vostri peccati E morendo nei vostri peccati Ve ne andrete all'inferno Sì perché esiste Un luogo di tormento nell'aldilà Dove vanno Coloro che muoiono nei loro peccati E' un luogo orribile Terribile Dove arde il fuoco E dove vanno appunto coloro Che muoiono nei loro peccati Quindi gli incredoli Che gli incredoli Muoiono nei loro peccati Dunque io vi avverto In maniera solenne Che se rifiuterete Di credere nell'Evangelo Quando morirete Per voi non ci sarà Alcuna speranza di salvezza Ve ne andrete all'inferno Nelle fiamme dell'inferno Nei tormenti Perché là le anime degli empi Sono tormentate L'inferno è un luogo reale L'inferno non è un luogo simbolico E' un luogo reale Il fuoco che c'è all'inferno E' reale Il tormento che c'è all'inferno E' reale La scrittura ne parla Dell'inferno Lo chiama Hades E lo presenta In maniera inequivocabile Come un luogo Di tormento E là Siete diretti Ecco perché Vi scongiura A ravvedervi E a credere Nell'Evangelo Vedete Credendo nell'Evangelo L'uomo viene Non solo salvato Dai suoi peccati Cioè liberato Dai suoi peccati Ma viene anche perdonato Perché ottiene La remissione dei peccati Perché i peccati Che l'uomo commette Sono dei debiti Che gli contrae con Dio L'uomo peccatore E' un debitore Nei confronti di Dio Un debitore Ha dei debiti Questi debiti Che cavano Sulla vostra coscienza Possono essere cancellati Vi possono essere rimessi Ma Vengono rimessi solamente Mediante alla fede Di lui attestano Tutti i profeti Che chiunque crede in lui Riceve la remissione Dei peccati Mediante al suo nome Quindi è credendo Nell'Evangelo Che si ottiene La remissione dei peccati Non solo E' credendo Nell'Evangelo Che si viene giustificato E quindi resi giusti Considerate Considerate La meravigliosa Grazia di Dio Il Dio rende giusti Coloro che Credono Nel suo Evangelo E quelli che Vengono resi Quelli che Vengono giustificati Possono poi dire Giustificati dunque Per fede Abbiamo pace con Dio Il giusto Vivrà per la sua fede Quindi vedete Anche la giustificazione Che da vita Si ottiene Credendo Nell'Evangelo E anche la vita eterna Si ottiene Mediante l'Evangelo Credendo Nell'Evangelo Perché chi crede Nel figliolo Ha la vita eterna La vita eterna Si ottiene quindi Anch'essa Per grazia Per grazia Non per opere La vita eterna È il dono di Dio In Cristo Gesù Quindi Non vi ludete È tutto Per Grazia Mediante La fede Che si ottiene Da Dio Credendo Nell'Evangelo Vedete quanto è importante L'Evangelo Che vi ho annunziato Lo vedete Quanto è importante Ecco perché È la buona novella Della Grazia Di Dio Perché Credendo Nell'Evangelo Si ottiene Veramente Per grazia Da Dio La salvezza La remissione Dei peccati La giustificazione Che dà vita La riconciliazione La vita eterna Oh meravigliosa Grazia Di Dio E quindi Peccatore Che aspetti Affrettati Ravvediti E credi Nell'Evangelo Di Dio E Dio Avrà misericordia Di te E ti salverà E ti darà La gioia Della salvezza Ed esulterai Esulterai Gioirai Di un'allegrezza Ineffabile Gloriosa Come gioiamo Noi Che appunto Abbiamo ottenuto Questa Così grande Salvezza Da Dio Ricordati Chi crede Nel figliolo A vita eterna Per cui E' certo Sicuro Che quando morirà Andrà ad abitare Con il Signore Nel regno dei cieli Cioè nel paradiso E' sicuro Certo E quindi Te lo ripeto Affrettati Peccatore Ravvediti E credi Nell'Evangelo Di Dio Chi ha orecchi da udire Oda Certo 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 Grazie a tutti.